Sì, cogliono, mi avete proprio rotto i coglioni. Ma che ci viene a fare queste cinema, eh? Giusto. Poi diciamocelo francamente, se il cinema non si rinnova, non è certamente colpa dei produttori. E di chi? Venga, ci vogliamo produci, avanti! La smetta coglione e torna il suo posto. E anche, rai, bisogna expirlo. Sta girando due film insieme. Primo è l'ultimo. Che volessi natural, che al Quinto Viano c'è uno scrittore che non può scrivere? Ma che devi scrivere? Una vicenda sommaria e sciatta, che frequentemente scade nel bozzettismo più vieto. E sai perché lo strappo? Lo strappo perché non ho il diritto di scrivere cose che non fanno ridere! Tu non hai bisogno di me, hai bisogno della mamma! Ma sì, perché? Quando sei un bambino! No, sei un vecchio! Privileggiati depressi, ecco, li fanno pure il mio schifo dai privilegiati contenti! È licito essere felici, anche se questo crea infelicità. E' pronto! Venite! Grazie! 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 Grazie!